Intanto, prima di fare la premiera, vorrei dire grazie ad Anna, famiglia che mi ha permesso di stare qui con voi e auguriamo ad Anna tante benedizioni. E prima di fare la benedizione alle mura si benedicono le persone, perché non ci può essere una predizione alle mura se non si muove in mente. Il Signore benedice prima le persone, perché chi fa le mura sono chi muove tutto. La viva, oh Signore, nel segno di quest'acqua verretta, il ricordo del nostro battesimo e la piena adesione a Cristo Signore. Amen. Auguri ad Anna. Una vita viaggiando è la nuova agenzia di viaggi sita a Taranto in via Principe Amedeo 109. La titolare è Anna De Vincentis, conosciutissima, leader in questo settore. Io conosco Anna da anni e quindi sono il testimonial e il testimone vivente della sua altissima professionalità e oltre a questo di una grandissima umanità che si trasfonde ogni giorno verso i clienti. Anna, intanto un grandissimo in bocca al lupo, parliamo di questa nuova avventura. Grazie Luigi, sì, infatti è proprio come hai detto. Una vita viaggiando nasce, è proprio il nome, nasce dalla mia grande passione che poi è diventato il mio lavoro, quindi viaggiare. Ho deciso di titolare così questa agenzia perché voglio che il mio motto diventi un po' il motto di tutti i clienti e amici che entrano in questa agenzia. Voglio far trasparire proprio l'amore e la passione che ci impiego non solo nei miei viaggi, ma anche nell'organizzare i viaggi di tutti i clienti che vengono qui in agenzia. Ho deciso di aprire la mia sede qui a Taranto perché unisco quelle che sono, come sai bene Luigi, i miei grandi amori, cioè il turismo e Taranto. Ho aperto questa sede nel centro di Taranto proprio perché voglio davvero mettere le radici nella mia città e cercare di far crescere nel mio piccolo questa città che ormai sei bene martoriata. Io conosco Anna e siccome io amo viaggiare tanto e riconosco ad Anna una capacità enorme nel scegliere, nell'individuare pacchetti viaggio con un elevato standard qualitativo dell'offerta con prezzi economici, molto economici, assai vantaggiosi e soprattutto ti senti in famiglia cioè sai di andare da un'amica innanzitutto oltre che da una validissima professionista. Lo dico per esperienza diretta. Infatti è proprio così, io sono un'amica che vi consiglia, che vi aiuta a scegliere. In prima persona sono una viaggiatrice, cerco di viaggiare il più possibile per poter poi consigliare al meglio i miei amici che prenotano un viaggio. Quindi ovviamente cerchiamo la migliore offerta insieme ma soprattutto noto nei clienti una fiducia estrema nei miei confronti che spero non venga mai tradita ovviamente Luigi. C'è stata un'inaugurazione che davvero ha sconquassato via Principe Amedeo e traverse vicine, tanto è stato l'afflusso e davvero si sentiva, si percepiva l'affetto, una cosa bellissima. Infatti sono senza parole ancora, il giorno dopo mi sono svegliata, pensavo fosse stato un sogno. Mi sei tirato un pizzicotto e hai detto sì, in realtà non è un sogno. Sì, proprio così perché non mi aspettavo tanto affetto e tantissima gente che mi è venuta a trovare, mi ha abbracciato. Io vi sono veramente grata e vi ringrazio pubblicamente e ho l'occasione. Bene Anna, ora dopo questa intervista diamoci da fare perché io devo, e lo dico sinceramente, prenotare il mio prossimo viaggio. Quindi Anna è una garanzia di qualità. Anna De Vincentis, Una vita viaggiando via Principe Amedeo 109 Taranto.